Benvenuti nel canale dedicato al mondo degli strumenti ottici. Grazie a Kowa Optimal Deutschland questa volta ho avuto la fortuna di provare il nuovissimo Kowa TSE N66 Prominar. È disponibile nella versione angolata definita TSE N66A e nella versione dritta TSE N66S. Io ho recensito come vedete il modello angolato nella versione zoom kit che costa attualmente 2.698 euro. È proposto quindi con il noto oculare TE11WZ2 che consente di ottenere un range di ingrandimento compreso tra 25 e 60x. Come comprenderete quindi ottenendo lo stesso intervallo di ingrandimento del TSE N88 il suo rapporto focale è più lungo rispetto ai modelli di maggior diametro. Questo fa già presagire delle eccellenti prestazioni. Tuttavia se volete saperne di più vi consiglio di leggere l'articolo su binomania.it e di vedere questo video subito dopo la breve sigla. Ci vediamo tra poco. Questo spotting scope è costruito e assemblato totalmente in Giappone ed è stato progettato per resistere urti a maltempo. Similmente al Kowa TSE N99 e al TSE N88 che vi ho già mostrato su questo canale YouTube è stato impiegato il procedimento di stampaggio di leghe tixotropiche. Significa nello specifico che si tratta di uno stampaggio iniezione di magnesio che permette di realizzare degli involucri ottici dalla struttura complessa, precisa, leggera ma anche robusta. La mia bilancia elettronica ha infatti stimato un peso senza oculare di 1142 grammi che diventano 1114 quando si monta l'oculare zoom. Come avrete senz'altro presagito e come avrete anche visto si avvale di tutti i miglioramenti della TSE N88 e TSE N99. Si apprezza quindi anche qui il design nuovo nella zona oculare con un'armatura antiscivolo, il pulsante di aggancio degli oculari e il piedino inferiore che è più lungo e che consente una maggior robustezza quando si trasporta sul treppiede o se si dovesse ad esempio utilizzare con una pesante reflex per il digiscoping. Beneficia anche del nuovo anello parapolvere nella zona oculare che protegge meglio la filettatura, la quale concede l'utilizzo di vari accessori. Per chi volesse invece utilizzarlo lungo le rive del mare o sulle scogliere durante condizioni meteo molto avverse, consiglio vivamente di sfruttare la filettatura da 72 mm di diametro per coprire l'obiettivo con un filtro specifico. Invariato invece come ovvio è anche il sistema di messa a fuoco che è di eccellente qualità. Si tratta di una manopola zigrinata assistita ad un'altra piccola manopola di demoltiplica che rende più agevole l'accuratezza durante le fasi di messa a fuoco più delicate come ad esempio nel digiscoping quando si lavora anche a lunghezze focali superiore a 2000 mm. La distanza minima di messa a fuoco che ho misurato 25 pere di 3 metri e mezzo mentre a 60 pere di 4 e da queste distanze ho dovuto ruotare in senso anti-orario la manopola di messa a fuoco di poco meno di un giro e mezzo per raggiungere quindi una messa a fuoco precisa all'infinito. Kowa spicca rispetto alla concorrenza per l'uso del puro cristallo di fluorita nelle sue linee di fascia alta come il TSN 99, l'88, il TSN 500 e il mitico binocolo Kowa Highlander. Al contrario le altre aziende utilizzano soltanto i divietri ID che sono miscelati con fluorite quindi il cristallo di fluorite riduce l'aberrazione cromatica in maniera pregevole e soprattutto con un medio alto rapporto focale fornisce delle immagini di elevata qualità e lo posiziono tra le spot in scopo i più performanti attualmente disponibili sul mercato. Il team di ingegneri inoltre nell'ultimo periodo hanno portato dei significativi miglioramenti ai precedenti rivestimenti ottici sia sulle lenti sia sul prisma quindi i nuovi spotting scope Kowa offrono alti livelli di trasmissione delle lunghezze d'onda ancora più elevati rispetto agli strumenti di un lustro fa. Inoltre il trattamento Kowa Repelling KR evita l'accumulo di sporcizia e grassi sulle superfici ottiche e consente nel contempo anche una pulizia più rapida e accurata. Accenerò solo ai nuovi appassionati le prestazioni dell'oculare zoom visto che troverete una mia recensione approfondita su binomania.it. Vi dico solo che è un oculare di grande qualità dotato di due lenti xd a bassa dispersione, un'alta nitidezza e un ottimo contrasto ottimizzato anch'esso con trattamento KR. Anche questa volta si è rilevato un eccellente tuttofare sia nell'osservazione visuale che nella fotografia. Non vi farò ora una lunga disamina sulle aberrazioni cromatiche geometriche visto che troverete un lungo paragrafo nel mio articolo pubblicato su binomania.it però ho il piacere di confermarvi che l'aberrazione cromatica sia centrale che laterale è praticamente assente e questo penso sia il miglior risultato che io abbia rilevato nel corso degli anni con questo genere di strumenti. Inoltre il campo di vista è perfetto sino al bordo nell'uso diurno e cede soltanto a 60x agli estremi bordi nell'uso astronomico dove si può notare un poco di astigmatismo osservando però delle stelle molto luminose. Grazie al suo rapporto focale medio anche l'aberrazione sferica è molto ben corretta. Inoltre come potete vedere da questa tabella ha superato le mie aspettative durante il test della Yousef Chart dato che a 60x ha fatto impallidire praticamente strumenti dal diametro superiore. Avendo avuto la possibilità grazie alle datatorie astronomici di Kowa di utilizzare molti oculari di terze parti quindi vi posso confermare che sia le aberrazioni cromatiche sia le geometriche variano leggermente in base all'ingrandimento degli oculari utilizzati. Quando mi chiedono però quale azienda offre la miglior gamma di accessori per il digiscoping la mia risposta è molto sicura ed è sempre Kowa. Per gli spotting scope Kowa di solito consiglio l'adattatore TSN AD A10 da usare con una mirrorless leggera meglio se micro 4 terzi. Tuttavia visto il peso e la compattezza del TSN 66 mi sento in questo caso di consigliare prettamente la fotografia tramite lo smartphone. Personalmente ho utilizzato un adattatore smartoscope vario per smartphone per la sua versatilità. Tuttavia l'adattatore nuovo il TSN IPX RP potrebbe essere ideale per smartphone di alta qualità. Le clip nel mio video sono state realizzate con uno spartano smartphone CAT S62 Pro che non eccelle per quanto riguarda le sue belletà fotografiche. Ma come spero possiate vedere mostra ugualmente le capacità del TSN 66A. Nel beer watching si è rilevato un compagno ideale per le mie avventure all'aria aperta soprattutto quando è abbinato a un leggerissimo treppiede in carbonio come questo vecchio ma affidabile Generalit che ha condiviso con me numerosissime avventure per oltre vent'anni. Questo treppiede è ospitato sia una leggera testa Manfrotto 701 che una compatta testa sfera della Sirui offrendomi quindi la flessibilità necessaria per diverse situazioni di osservazione. Più ho avuto l'opportunità di immergermi nell'utilizzo del COVA TSN 66A più ho compreso che per alcune delle mie osservazioni non è essenziale disporre di un potente telescopio terrestre da 95-99 mm. Sebbene infatti questi telescopi di grande diametro possono offrire una maggior luminosità e prestazioni fotografiche superiori spesso risultano ingombranti quando ci si trova a caccia di uccelli rapaci o si intraprende delle lunghe escursioni in mezzo alla natura. Anche qui dalla tua retta a due piani della riserva naturale Palude Brabbia ho avuto infatti l'opportunità di apprezzare appieno le straordinarie capacità del TSN 66A. La nitidezza delle immagini, il contrasto sorprendente e la resa vivida dei colori hanno contribuito a rendere ogni momento l'osservazione veramente un'esperienza indimenticabile. Secondo me infatti per le attività prettamente diurne questo nuovo spottingscope può facilmente sostituire il modello precedente della serie 773 e con certezza superare i telescopi terrestri da 56 mm che hanno recentemente attirato l'attenzione degli appassionati. Nell'uso crepuscolare avrei preferito confrontarlo direttamente con il TSN 773, ma le circostanze non me lo hanno permesso. Tuttavia ho apprezzato la visione dei caprioli e delle volpi nei primi momenti del crepuscolo, grazie comunque alle eccellenti caratteristiche ottiche del TSN 66. Avrei forse gradito un oculare COA con un ingrandimento inferiore per avere una pupilla di uscita più ampia, ma capisco che questo spotting sia stato progettato per altre finalità. Nell'uso astronomico invece, se si considera l'investimento per acquistare il TSN 66, potrebbe sorgere la questione di optare per un telescopio astronomico di maggior diametro. Tuttavia le mie riflessioni prendono forma se l'intento è un utilizzo principalmente naturalistico, quindi con occasionali incursioni nell'osservazione del cielo profondo, della Luna e dei pianeti. Ciò che ho osservato è che, pur condividendo la stessa lunghezza focale del TSN 88, quindi 500 mm, il rapporto focale del TSN 66 è leggermente più chiuso, quindi intorno a f7,6. In quanto possessore di un telescopio con doppietto al cristallo di fluorite da 128 mm e un'apertura di f8, comprendo bene il beneficio di un rapporto focale medio-alto abbinato al cristallo di fluorite. Questo si traduce infatti in una notevole correzione del cromatismo residuo e anche dell'aberrazione sferica. Come confermato dal test sulle stelle che ho condotto, le immagini stellari sono nitide, puntiformi e prive di cromatismo residuo anche sul bordo lunare. Ho osservato con chiarezza Saturno i suoi anelli, nonostante le condizioni osservative non fossero ottimali quest'anno, utilizzando il moltiplicatore TSN e X16. E per quanto riguarda lo start test, lo dico per gli appassionati amici astrofili, le immagini intra-extrafocali erano decisamente simili, a parte forse solo un po' di luce diffusa in extrafocale. Ho anche sperimentato con successo gli adattatori Kowa insieme agli oculari Takashi, ILE e LE. Nel mio giardino inoltre le galassie più luminose sono ben visibili e distinguibili dal fondo del cielo anche grazie all'ottimo contrasto che sa fornire. Consiglio quindi in definitiva l'acquisto del moltiplicatore Kowa per osservazione ad alti ingrandimenti durante il giorno, mantenendo una notevole intidezza e contrasto anche a 96x, il che li rende nell'uso astronomico anche perfetti e possono fornire un'esperienza appagante. Tuttavia il medio rapporto focale limita leggermente l'ampiezza dei campi visivi con l'oculare zoom di serie. Direi che è giunto adesso il momento di parlarvi in sintesi dei pregi dei difetti. Tra i pregi posso dire obiettivo con puro cristallo di fluorite, un'eccellente nitidezza, un'ottima resa dei colori e un'eccellente correzione dell'aberrazione cromatica, un elevato contrasto. Il test diurno con la U e SafeChard ha fornito le prestazioni similano spot in scopo di diametro superiore. Compatibilità con il duplicatore Kowa nelle condizioni diurne per osservazione lunare, un sistema fotografico che comunque è tra i più avanzati attualmente sul mercato. Miglior compromesso attuale tra la compattezza e le prestazioni. Tra i difetti ovviamente il prezzo di acquisto è elevato ed è adeguato però alla concorrenza di alta gamma. Sarebbe auspicabile un oculare ingrandimento fisso by Kowa, come ad esempio un 15x, per arricchire ulteriormente le opzioni di utilizzo. In definitiva, Kowa non è nota per lanciare frequenti evoluzioni dei propri strumenti nel corso degli anni, come fanno molte altre ditte, più che altro per ragioni di marketing. Tuttavia, ogni volta che introduce un nuovo prodotto lo fa con molta attenzione, intelligenza e competenza. Il nuovo Kowa TSN-66A infatti è destinato a diventare uno dei telescopi di osservazioni più ambiti, specialmente tra gli appassionati di birduoci di caccia e di tiro sportivo di alto livello. Combina i pregi di un corpo molto più compatto e la sua eccezionale nitidezza, contrasto, resa cromatica e capacità di contenere il cromatismo residuo metteranno in guardia la concorrenza più agguerrita. Vi consiglio quindi di superare le preconcette e convinzioni che qualcuno ha su determinati brand, invece di testare il Kowa presso il vostro rivenditore di fiducia e sono certo che anche voi rimarrete piacevolmente sorpresi proprio come è capitato a me. Io ringrazio il dottor Gunther Reisner di Kowa Optime Deutschland per avere fornito lo strumento oggetto di questo test, consentendomi come sempre di citare le mie impressioni pratiche sul campo. Io oggi termino qui, ci vediamo come sempre su questo canale. Vi aspetto su due siti web ufficiali che sono binomania.it dedicato al mondo dei binocoli e degli strumenti da osservazione naturalistica astronomica e il più specializzato termici e notturni.it dedicato agli appassionati delle osservazioni notturne e termiche. Inoltre potete seguirmi su tutti i social presenti qui in basso in descrizione. Se volete aiutarmi a condividere questa stupenda passione in mezzo alla natura potete mettere un bel mi piace a questo video, condividerlo con i vostri amici e se ancora non l'avete fatto potete rimanere sempre aggiornati iscrivendovi gratuitamente al mio canale youtube utilizzando l'icona qui in alto. Un carissimo saluto a tutti voi qui dalla riserva naturale Palude Brabbia in provincia di Varese Rappier Giovanni Sanimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!